Unave a tutti legionari e barbarozzi non iscritti, sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Rome Total War 2 con la mod divide e timpera. Allora, nello scorso episodio siamo riusciti a prendere a Polonia con l'esercito del nostro... del nostro... come si chiama? Il Fieu? Eh, non mi ricordo più. Caro ragazzo, com'è che ti chiami? È un membro della casata dei Giuli, che naturalmente guida la nostra Roma. Il Primo Sinterpares. E si chiama... eh, L. Julius Libo. Ok, ok. Lo lasceremo qua anche se abbiamo già stabilito che vogliamo relazioni amichevoli, perlomeno con i Macedoni in questo momento, con gli Antigoniti, se vogliamo essere specifici. Gli Ardiaei, invece, ci vedono... come ci vedono loro? Ok, in modo abbastanza neutrale, al momento commerciamo con loro, ci guadagniamo qualcosa, quindi... bene così. Senz'altro la videoativa di espansione più interessante in questo momento è quella... è quella Sicula, diciamo. Quindi, dato che noi abbiamo già un esercito qua, potremmo anche fare una cosa. In realtà, potremmo aspettare un turno tranquillamente per vedere cosa succede. Poi questo esercito, piano piano, lo muoviamo verso... verso la Sicilia. Tra l'altro, in Sicilia è scomparso l'esercito siracusano. Chissà dove sono finiti i ragazzi. Ah, questa è la nostra flotta che abbiamo mandato in giro per esplorare. Ok, 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 questo qua è di guarnigione qui, questo esercito è di guarnigione qua, dove il morale sta migliorando. Ok, passiamo il turno. Ah, cosa succede? Cosa succede? Possiamo fare un editto, un altro editto, è vero, è vero. M'ero... me l'ho dimenticato. Al momento qua abbiamo Panem e Cercensem, qua stiamo vendendo schiavi. Ma non è vero, non possiamo farlo. Ah, ok, no, qua l'avevo tolto e volevo sostituirlo con qualcosa. In questo territorio cosa potrebbe servirci? Beh, potremmo cercare di migliorare la crescita anche in questo caso. Importacivo, no. Ordine pubblico, schiavi, tasse, no. Vorrei qualcosa che riguardi la crescita e la conversione. Romanizzazione in realtà non è malvagio. Ma sì, andiamo per la romanizzazione, dato che comunque il territorio è ancora molto ellenico e molto italico. Colpo di scena, colpo di scena. Lo tradimento di Cartagine. Eh, vabbè, eh. Mi unirò anch'io ai saggi che dicono Cartago dell'Enda Est. E quindi cosa fate? Vi muovete verso di noi? Non c'è dato saperlo, vabbè. Riporteremo gli eserciti in patria. Allora, allora, allora. Cartagine è in guerra con noi. Maledetti cartaginesi. Sono successo un po' di cose, tra l'altro, nel passaggio di turni. Ovvero, Rodi ci ha proposto un patto di non-aggressione. Considerate che potevo fare solo una controfferta e l'hanno rifiutata. E di conseguenza non è stato nulla. Il Siracusa ci ha proposto un trattato commerciale. Ora, cercherò di trattare ancora con Siracusa e con Rodi. Rodi per farci dare un po' di soldi per il patto di non-aggressione. Siracusa per commerciare con loro, avere il transito e ricevere un po' di soldi. E poi, penso che possa essere utile anche firmare un patto di non-aggressione con Ardiaei, Veneti e Liguria. Giusto per avere gli altri fronti sicuri. Potrebbe inoltre servirci un esercito ad Apollonia, perché comunque una guarnigione male non penso che faccia. Cominciamo a muovere questo esercito sulla via di casa. Naturalmente soffrirà un po' da triti in un turno. Ah, qua vedo che si comincia proprio tempo zero a star male. Bene, 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 bene. Questo meno tredici non ci piace per niente. Non ci piace per niente, quindi assolutamente andiamo subito a prendere un altro generale. In questo caso potremmo anche andare sulla Gensiulia. Fatemi vedere un po'. Abbiamo Septimius Salonius, che mi sembra migliore rispetto all'altro. Raise Army, perfetto. Recluta. Ah, ragazzo qua. Uh, è vero, non ci sono Cives. Sono tutti peregrini? Immagino, immagino. Sì, sono tutti peregrini. Fantastico, questo è fantastico però. Ok. Opliti della Tessalonica. Ectromoi. Questi sono Levi, essenzialmente. Questi sono opliti un po' più seri. E questi invece sono Peltasti. Ok. Sono decisamente costosi. Anche il mantenimento non è per niente regalato. Io direi che ci prendiamo un po' di opliti leggeri. E... Sì, Peltasti però magari al prossimo turno. Adesso faccio gli accordi di cui vi ho parlato e poi ci rincontriamo. Allora, che è successo? Ho venduto un po' di pattini in un'aggressione in questa zona. Rodi, Pergamo, Bitigni e Egitto hanno più che volentieri accettato anche di darci qualche soldo. Iardia e i Veneti, la Liguria, se ne sono sbattuti le balle, hanno rifiutato. E Siracusa non è più disposta a trattare. E quindi, dato che Siracusa si trova lungo la linea, diciamo, di espansione, probabilmente ci toccherà attacchiarla. Qua cominciamo a muovere questo esercito verso sud. Gli reclutiamo qualche unità, sempre che sia possibile con... Esatto. Abbiamo dei Principes, Astati. Potremmo reclutare ancora un po' di Astati. C'è abbastanza plebe in questo territorio. 643, Proletari, Pellegrini. Ok. Ci conviene andare a prendere unità d'altro tipo. Magari dei Pellegrini, se possibile. Ah, però mi manca la Caserma degli Ausiliari. Ah, è vero. È vero. Eh, questo è un problema. È un problema il fatto che ci mancano i cittadini e che abbiamo solamente i Proletari. Più che altro perché poi dovremmo comunque rinforzare questo esercito. Quindi è un po' un macello. È un po' un macello. Va bene. Facciamo comunque che magari qualche altra unità di... Oh, no. Ci sono. Ci sono. Questi qua sono Tarantini. Questi sono Proletari. Ok, due unità di queste. Cosa sono esattamente? Ok, leve Tarantina. Proletari, 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 Proletari. Ok. Ah, no. Mi prendo un po' di queste. Così l'esercito arriva quasi al massimo. Vorrei anche per loro un'altra unità di Echides. Il fatto è che così esaurisco completamente la popolazione di Patrizzi. Quanto devono essere rinforzati qua i Patrizzi? Cioè le truppe composte da Patrizzi. Fammi vedere un po'. Fammi vedere un po'. Triari. E sì, no. Allora non mi conviene. Non mi conviene. Va bene. Lasciamo stare. Poi, per quanto riguarda il budget. Ok, queste truppe a Roma. Però forse vale la pena andare a coprire un po' più a nord. Nello specifico magari questo esercito lo andrei a portare verso Arezzo. Perché questo? Perché comunque possiamo sapere qualcosa delle altre popolazioni. Loro sono aggressivi. Però se ci firmo un patto di non-aggressione è più difficile che lo rompano. Quindi. Addirittura. Addirittura. Vabbè, non lo accettano neanche loro. E ok, così sia. Così sia. Questi qua stanno tornando indietro. Va bene. Non posso reclutare altri uomini. Magari costruiamo qualcosa. Costruiamo qua delle caserme romane a Taras. Perfetto. Qua non posso fare proprio niente per migliorare il morale. Cioè potrei abbassare un pochino le tasse. Potrei abbassare un pochino le tasse. Non si potevano esentare le province. Questo si poteva fare solo su Empire. No, si può fare, si può fare. Posso detassare la provincia. Beh, wow. Passiamo da meno 16 a meno 12. Sono a dir poco commosso. Va bene. E così sia però. Così sia. Questo qua ci dà un po' di bonus. Forse posso reclutare un altro dignitario che si occupi di questa provincia. Esattamente. Esattamente. Sono tutti dannatamente uguali. Questo mi sta più simpatico. Quindi prendo lui. Perfetto. E potrei anche permettermi un'altra spia. Volendo. Volendo. Vabbè. Prima vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa con le nostre flotte. Qualche altra civiltà magari. Vediamo un po'. Ok. Sinope in realtà li conoscevamo già. Va bene questa flotta di qua. Invece. Sì. Ma in realtà mi sa che gli lascerò il movimento automatico. Come avevo già detto. Non lo farò io di turno in turno. Cioè. Naturalmente scoprirò le fazioni con un turno di ritardo. Però. Non c'ho voglia di... Di starci così tanto dietro a queste... A queste truppe. Non abbiamo una flotta con cui coprirci da cartagini. Questo dovremmo assolutamente rimediare. Ed è un problema che ce l'abbiamo solo da quella parte. Vabbè. Vedremo di resistere comunque. E rieccoci. Pirateria rampante. Possiamo cacciarli. Oppure reclutarli addirittura. Figo. O ignorarli. Li reclutiamo. Tra l'altro. Costruzione di caserme, mercenari, diserzione. Vabbè. Questa flotta qui naturalmente. Ok. Sono arrivati nella città. E addirittura riescono ad arrivare fino a Cosenza. Perché non... Non manca... Cioè non c'è abbastanza manpower però. Ok. Allora devo fare una cosa che non mi piace per niente. Però caspita. Quanto movimento hanno. La miseria. Hai visto che roba. Vabbè. Li portiamo momentaneamente ad Ascoli. Perché so che da sopra si possono... Si possono rinforzare. In teoria. In teoria. Empower shortage or local events. Ok. Ribrato truppe. Popolazione incoraggiata. Popolazione incoraggiata. Villaggio romano costruito. Voi nel frattempo. Cari ragazzi miei. Ah. Tra l'altro la spia ha scoperto che qua i siracusani stanno nuovamente reclutando. Ok. Questo esercito nel frattempo. Io lo sposto qui. Perfetto. Voi ditemi un attimo. Cosa c'è qui? Nessuno in realtà. Dobbiamo ricordarci che ci sono anche questi due territori comunque. Quindi. Il pericolo c'è. Sono quasi tentato di portare più verso Roma questi. Sì facciamo che lo faccio. Lo faccio. Lo faccio. Lo faccio. Questo FIU lo mettiamo a fare non raiding ma pattern region. Troppo simili i due simboli. Sinceramente non lo gradisco particolarmente. Qua siamo a un meno 4 ma con questo che si mette a fare patrol region in teoria esatto. Almeno riusciamo a stabilizzare la situazione tanto mi basta. Qua cominciamo a fare un campo degli ausiliari. Qua a Roma non abbiamo margine per ampliamento. Potremmo ampliare questo ma cibo non penso che ci serva. Esatto. Questo non ce ne fa consumare di più. Questo non ce ne fa consumare di più. E questo non ce ne fa consumare di più. Quindi piuttosto amplierei l'insediamento qua sotto. O addirittura Taras. Più crescita meno 5 di cibo. Leiva ti mannaggia. Ok niente. Questo consuma di più. Ok. Ce lo possiamo permettere. Ampliamo la città più tasse. Bene così. Bene così. Ricerca. Cosa abbiamo? Meno costi di mantenimento. Meno costi di reclutamento. Flotta. Flotta che non sarebbe male poter cominciare ad avere. Questo cos'è? Upgrade. Upgrade scusate. Con che inglese? Con che inglese mannaggia? Ricchezza dell'agricoltura. Nuovi edifici. Libreria. Questo non è male. Un po' di ricchezza in questo momento non mi dispiacerebbe. Vediamo se effettivamente ho scoperto qualcun altro. Ponto. Con cui non possiamo commerciare tuttavia. Ok. Ok. Va bene allora facciamo passare il turno. E eccoci. È stata beccata la nostra spia. Male. Missione. Recruta un campione. Va bene. Skill marziale immagino che gli darà un bonus. Esatto. Va bene. Ah. C'è una spia cartaginese qui. No. Non riusciamo a fare niente decisamente. In compenso sappiamo che è sbarcato un grosso esercito cartaginese. Qua sotto. Va bene. Portiamo la spia indietro. Qua a sto punto. Ora che lo sappiamo. Forse vale la pena attendere un attimo e metterci a cosenza. Non ho visto flotte nemiche. Però sarebbe cosa buona e giusta andare a prendere magari Corsica e Sardegna. Qua già che ci siamo ormai. Andiamo a Narbo. Vediamo se riesco a sbloccare qualcosa. E poi questa flotta lo so che volevo che esplorasse. Però preferisco sinceramente che mi dica qualcosa per quanto riguarda questi territori. è molto importante ottenere un po' di intelligence. Perché potremmo nel caso anche attaccare. Allora qua se faccio Fortify e recluti più rapidamente. Sì, in teoria sì. In teoria sì. E allora fatelo. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Qua perché abbiamo questo meno 6? Mannaggia. Amministrazione. Non va bene per niente. Non va bene per niente. Qua non posso reclutare. Se io li rimetto così? Eh, meno 10. E anche peggio. E anche peggio. Vabbè, prendiamo due unità di peltasti. Così magari poi riusciremo a tenere più sott'occhio l'insediamento. Potrei anche addirittura... Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, sì. Facciamo una cosa di questo tipo. Guarnigione ci serve che sia un po' più ampia. Decisamente. E qua nel sud... Il fatto è che se aspetto che mi costruisca il coso degli ausiliari sono due turni. Due turni potenzialmente arriva. No, eh, però... Un attimo possiamo permetterci di aspettarlo. Vediamo un po' che abbiamo scoperto. Massalia. Ah, hanno conquistato Narbo. È sempre stato loro. Abbiamo i Cessetani. E vediamo se riesco a commerciarci. E poi passerò il turno. Allora, sono riuscito a recuperare davvero un sacco di soldi. Davvero un sacco di soldi anche perché ho scoperto quasi tutte le potenze del Mar Nero. E tra accordi commerciali e qualche patto di non-aggressione adesso siamo di nuovo a 10.000. Che, vi dirò, è una buona scorsa da margine per fare un po' di cose. Cioè, volendo potrei assumerci dei mercenari. Ci lascia spazio come cosa. Una cosa assolutamente che vorrei fare è magari andare a ampliare questo insediamento qua nel sud. Market settlement, farming settlement, civil settlement. Lo farei magari civile. Che dite? Meno banditi, meno apchi per le truppe. Sì, facciamolo in questo modo. Qua andiamo magari ad ampliare i vigneti. Wine trader, più ordine, più wealth, un po' più di banditi, un po' più di stranieri. Ok. Facciamo questo, facciamo questo, in questo punto. E ci teniamo un po' di riserva, cosa buona e giusta. E passiamo. Allora, il bisogno della cavalleria. Rally horseman, che permette di reclutarli per quattro turni a costi minori, oppure più esperienza. No, preferisco pagarli un po' meno. Non è più possibile commerciare con questi ragazzi, neanche con questi. Saranno stati conquistati. Brutus ha guadagnato tra l'altro un livello. Va bene, va bene, va bene, va bene. E cosa gli diamo al ragazzo? Gravitas assolutamente no. Meno upkeep non è male, non è male. Conversione culturale. Questo e questo sono entrambi molto buoni. Questo aumenta anche l'ordine pubblico. Però farei questo e questo. Ah, posso anche aumentare ancora, volendo? Ah sì, ma meno upkeep, assolutamente, assolutamente. Ottimo generale, devo dire. Davvero un ottimo generale. Ok. Questo generale qua, che è Salonius Gracchius. Lui mi sembra che fosse della dinastia Iulia. In teoria, se io vado sulla politica... Personaggi. Iunius Brutus. Dov'è che si trovava lui? Ah no, però ho aspettato, ho sbagliato dinastia. Stavo guardando Iuni quando dovevo guardare Iuli. Ah, ma quello è proprio un altro nobile. Gracchius. Ok. Questo è interessante. Gather Support. Gravitas. Loyalty. Gravitas. Non può fare i giochi. Ok. Se no, questi ragazzi qua. I 5 di lealtà. I 8 di lealtà. Speravo sinceramente che ci fosse qualcosa stile Panem e Cercenzen per... Placchiare un pochino la popolazione, ma a quanto pare. Partito. Gravitas, gravitas, gravitas. Vabbè, ci darò un'occhiata dopo. Prima facciamo altro. Controlliamo al volo la mappa. Controlliamo al volo la mappa. Sì, ok. Qua i veneti direi che si sono ampliati. Congratulazioni. Cartagine tra l'altro ha fatto sbarchare un altro esercito abbastanza corposo nel sud dell'isola. O perlomeno... Ah, sì. Ok. Con questo qua sta attacchando Siracusa. E invece... Questo esercito... Quanti uomini sono? Un po' più piccolo, ma... Siracusa. Il nemico del mio amico è il mio amico. No, eh. Vogliono morire da soli. E così sia. Che posso dirvi? Che posso dirvi? Mi auguravo di non vedervi morire. Il fatto che Siracusa ne prende questa città è una rottura di balle. Io però non posso entrare in questi territori, penso. Senza che sia una... Una violazione. Mm. 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 Vabbè. Prendiamoci un'unità di Echites Campania. E così sia. Cosa cambia? 100, 100. Sono sempre patrizi. Charge bonus. Ah, ok. Questi qua, direi che sono un po' più pesanti, forse. Guerrieri molto rispettati. Sì. Ok. Ok. Sono questi, insomma. Sono questi. Ah, ok. Possono anche lanciare... Hanno anche munizioni. Ma no, ma ce l'hanno... No, ok. Queste qua non le hanno. Queste qua non le hanno. Due Echites Campania, va bene. E abbiamo margine per magari reclutare qualcun altro... Degli altri astati. Sì. Sì, sì, sì. Possiamo reclutare degli altri astati. E così sia. Belle queste truppe, però. Opliti. Ah, sai che queste cose sono un po' di opliti campani, però. Taurini. Liguri. Truppe d'assalto. Sono proletari, per di più. Questi sono opliti. No, prendiamo questi. Prendiamo questi. Ok. Ok. Qua, in teoria, questo esercito è quasi sistemato. Va bene. In un turno ancora dovremmo essere a posto. Poi sarebbe interessante usare lui per muoversi verso Alalia e Cagliari. E riuscire a prendere quelle città sarebbe un bello smacco per Cartagine. Mentre loro sono impegnati in Sicilia, noi facciamo casino nel nord. Guarda, questo sta pattugliando e va bene così. Qua il morale continua ad essere uno schifo. Però, in teoria, se io adesso metto questo, siamo ancora meno uno. Va bene. Va bene. Contento tu. Contento tu. Sono tentato di cominciare a reclutare anche un altro generale, sempre qua nel sud. Vediamo se ne posso prendere uno della casata Iulia. Sì, un altro c'è. Spurius Papirius Lurco. Mi servirebbe anche una flotta, eh. Una flotta vera. Ma possono reclutare questi, ora che ci penso? Oh, 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 oh. I protettori delle colonie. Mannaggia il diavolo. Ok, questa... Hanno una flotta vera. Il che mi dimostra che effettivamente quello che volevo fare allora non è fattibile. Non ci sono mercenari disponibili. Ok. Qua cominciamo a prendere per l'appunto un altro esercito. Ok. Fatemi controllare che effettivamente faccio parte della gens Iulia. Altri nobili. Mi disegna come altri nobili, però. Ma la nostra casata può avere altri membri o posso avere solo quello principale? Mannaggia il diavolo. Influenza 36% non è male. Non è male. Lealtà delle altre fazioni. Dov'è che si guardava la lealtà? Questa? Vabbè, comunque ho guardato e no. Non ci sono azioni che abbiano effetto sulle province. Ho aumentato la lealtà della gens Iulia, che mi sembrava una buona idea, sinceramente. E a questo esercito comincerei a fare... Vero, vero. Anche qua dovremmo andare principalmente di... Oddio, in realtà proletari adesso ne abbiamo un povero. La popolazione sta salendo. E allora, perché non dovrei fare qualche rorario? Perché non dovrei fare qualche rorario? Ah, giusto. In realtà stavo aspettando di poter fare qualcosa con gli auxilia. E vabbè, però l'esercito ha bisogno di essere ampliato ora. Quindi... Quindi, quindi, quindi. Partiamo di rorari o di opliti? Opliti. Cioè, rorari, scusate. E possiamo far passare il turno. Ok, rieccoci. Sviluppo civile o marziale? Ricerca, ricerca. E non mi ricordo cosa sto facendo. Sto facendo una civile, mi sembra. Sì, quindi supportiamo lo sviluppo civile per il momento. Ok. Soldi ci sono. Agente scoperto. Fazione distrutta Colchis. Un po' di reclutamento. Cosa si espande. Condizioni, costruzioni. Guerre. Guerre, ok. Guerre che non ci interessano. Questa flotta, ormai direi che il suo giro bene o male l'ha fatto. Quello che c'era da scoprire nel Mar Nero è stato scoperto. Di conseguenza, direi che loro potrebbero cercare di venire fino a qua. Ok, ci metteranno un pochino. Quindi così sia, così sia. Qua continua a essere sotto assedio Siracusa. Non so se... Come pensano di farla cadere. Perché sarebbe interessante avanzare noi e fare qualcosa a noi. Però, però, però. Cioè, potrei provare a muovere questo ragazzo verso Panormus. E il fatto è che adesso ho il timore di quella maledetta flotta. Uh, eccola qua. Eccola qua. Ok, questo esercito è pressoché a posto. Quindi, 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 quindi. Facciamo che mi voglio dedicare a Cartagine e di conseguenza li muovo verso sud. Questi allo stesso tempo. Per il momento li lasciamo qua. Ma sarà un esercito per lo più di peregrini. Uh, guarda quanti ausiliari. Equites extraordinari. Ok. Liguri e Epos. Ok, ha qui le scampagne. Opliti tarantini. Miseria, quanti ne ha aggiunti? Quanti ne ha aggiunti? Questi qua sono quelli con i cani. Va bene. No, vorrei degli... Degli opliti che facciano la unità di sfondamento, diciamo. Ok, ancora un po' di errorare, magari. E così sia. E poi avrò bisogno di... Naturalmente un po' di... Di frombolieri anche per questo esercito. Ok, loro si stanno muovendo verso sud. Soldi ci sono. Mi servirebbe un ampliamento della flotta. Qua, in un modo o nell'altro non posso... No, sì, ok. Posso fare il giro così. Posso fare il giro così. Muovetevi verso la costa di Roma. E' anche vero che non possono attaccare coste perché non abbiamo città costiere. Quindi, almeno quello. Almeno quello. Va bene. Potrei ampliare il porto come l'acciaio di Rimini. Se c'è abbastanza cibo. In realtà mica tanto. Potrei ampliare allora la nostra produzione di cibo qui. Qua, al Tempio di Marte, aumenterebbe anche l'influenza culturale latina che non ci dispiace. Qua, come siamo messi, continuiamo a essere un meno tre, maledizione. E non posso neanche prendere i mercenari. Una rivolta è quasi garantita. È quasi garantita là sotto. E vabbè, così sia. Così sia. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Ok, rieccoci. Architetto. Cosa succede? Personaggio importante. Che potremmo assumere oppure rifiutare o ottenere più soldi. No, no. Non assumiamolo. Ricerca completata. Va bene. Agente scoperto. Parentesi. Cartagine è caduto. Sei ancora protetto dalla secessione della guerra civile, ma questo ispirerà in tre turni. Governatore che aumenta di rango. Un altro governatore che aumenta di rango. Bene, 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 bene. Selo. Più di ordine pubblico e dalla presenza militare. Benissimo, benissimo. Mi sembra che fosse questo per aumentare l'ordine pubblico. Vediamo se ci arrivo. Ah, non posso. Questo qua gli dà un meno uno invece. Vabbè. Zero è meglio che niente. Zero è meglio che niente. Nel frattempo, vi ho detto per l'appunto che Cartagine ha preso Siracusa. Non sembra che stiano ampliando particolarmente gli eserciti. Però, 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 però. Comunque adesso la Sicilia è nelle loro mani. Noi abbiamo questo esercito che si sta muovendo verso sud, ma sta andando bello lento, bello lento. Comunque qua con due eserciti full stack potremo lanciarci all'attacco. Secondo me senza temere troppo, diciamo. Abbiamo magari delle unità con giavellotti, qualcosa... Oddio, in realtà anche i frombolieri vanno bene, eh. Anche i frombolieri vanno bene, che sono proletari, quindi comunque unità abbastanza tranquille. Potremmo poi prenderci gli assati. Mi sembra che avessimo margine per farli. Lebe sì, ok. Spendiamo due unità di assati. Vabbè, anche già una per cominciare, va bene. Questo esercito probabilmente lo lascerò un po' più indietro. Reclutamento. Conceal time discovered. Abbiamo scoperto un esercito nascosto. Eccoli qua. Ok, casata che si espande. Costruzioni completate. Popolazione motivata. Va bene, va bene. Ok. E direi che per questo episodio ci possiamo fermare. Non ci sono state grandi battaglie. Ah, giusto. Magari una nuova tech. Però perché non ci sono state grandi battaglie? Perché ci stiamo preparando al conflitto con Cartagine. Quindi suppongo che nel prossimo episodio voleranno tanti schiaffi. Ora, noi abbiamo davvero, davvero un forte bisogno di una flotta. Il fatto è che per reclutarla mi servirebbe un porto militare che io in questo momento non ho. Quindi, forse l'unico modo che ho per ottenerlo è occupare uno dei territori della Sicilia e a quel punto, allora, andarmi a fare una flotta. So di fatto che queste truppe qua vanno benissimo qua, perché a meno che i cartaginesi non facciano a Nibale Style la traversata delle Alpi, dal nord siamo abbastanza tranquilli. Quindi utilizzerei qua la flotta per vedere se ci sono eserciti matti che vogliono fare follie. Se no, in generale, io comunque muoverei, diciamo, dallo stretto di Messina verso Siracusa o comunque Palermo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, magari li muoverei entrambi, mi metterei qua a saccheggiare e spererei in un attacco, perché attaccare Siracusa, come neanche 20 truppe che la proteggono, non la vedo come la migliore delle strategie. Però staremo a vedere. Io mi auguro come sempre che l'episodio vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e se siete arrivati fin qua immagino vi sia piaciuto. Mi raccomando condividete la campagna con amici e non perdetevi il prossimo episodio. Come sempre inoltre, 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 non è l'accento corretto, come sempre inoltre un grandissimo ringraziamento agli abbonati che supportano l'avventura del canale. Senza di loro sarebbe davvero difficile coprire questi fissi di mantenimento del canale che non sono altissimi, però esistono. E quindi li ringrazio fortemente per questo. Naturalmente invito anche voi a valutare la possibilità di abbonarvi a vostra volta, se trovate un livello di abbonamento non troppo costoso per le vostre tasche e i benefici sono di vostro gradimento. Detto questo, prima di straparlare ancora, ragazzi, fa troppo caldo, io vi giuro mi sto sciogliendo, direi che per oggi ci salutiamo. A tutti i legionari e a presto.